ma quanto è buona l'acqua quando abbiamo sete e soprattutto se è gasata salve amici e bentornati al canale charlie oggi voglio testare con voi le fotocamere dell'iphone 15 pro in questo momento stiamo testando quella principale quella posteriore 4k 60 fps ma nel corso del video testeremo anche quella frontale sempre 4k 60 fps l'audio che sentite è quello preso direttamente dal microfono il 15 pro in questo video andremo a vedere il gasatore della soda stream in questo caso modello terra che cosa fa il gasatore va a gasare l'acqua e rubinetto cosa molto importante in un altro video vi ho parlato della brocca vita questa brocca permette di andare a filtrare l'acqua del rubinetto quindi si inserisce qui l'acqua e rubinetto e l'acqua viene filtrata quindi quello che vi consiglio è di acquistare questa brocca perché andrete a eliminare sicuramente tutte quante le bottiglie di plastica noi sono anni che la utilizziamo e devo dire che ci troviamo veramente molto bene quindi una volta che avremo filtrato l'acqua la andremo a versare all'interno della bottiglia che ci viene data in dotazione naturalmente l'acqua per essere gasata ha bisogno di una bomboletta di co2 alimentare che va inserita direttamente nel gasatore quindi adesso andiamo a vedere come si inserisce la bomboletta all'interno del gasatore bomboletta inserita questa è la bottiglia che danno in dotazione qui abbiamo il livello d'acqua quindi l'acqua va messa fino a questo livello come ho già detto acqua filtrata tramite la brocca abbrita quindi andiamo a riempire la bottiglia ci siamo quasi ok passo successivo la leva deve andare in fuori vi faccio vedere che qui dentro abbiamo i denti che vanno a catturare la bottiglia quindi leva in avanti naturalmente togliamo il tappo quindi andiamo a mettere la bottiglia in questo modo la inseriamo premiamo in su ok la bottiglia è sollevata ed è fissa una volta che abbiamo inserito la bottiglia andiamo a premere il tasto se lo premiamo una volta diciamo l'acqua leggermente frizzante due volte è mediamente frizzante tre volte è per digerire la cena di natale premo una volta una volta che abbiamo gasato l'acqua diamo in giro la bottiglia si sgancia e la bottiglia è libera e quindi possiamo andare a gustarci acqua frizzante bene amici eccoci giunti alle conclusioni le sto facendo direttamente dalla fotocamera di questo iphone 15 pro a mano libera vi ricordo 60 fps 4k come abbiamo visto andare a gasare l'acqua è veramente semplicissimo con una bomboletta di co2 riusciamo a gasare fino a 60 litri di acqua il mio consiglio è quello di andare ad eliminare il più possibile la plastica nella descrizione del video vi lascio due link per andare a vedere su amazon sia la brocca brita che il soda stream nella versione terra amici il video termina qui come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti ci vediamo al prossimo video mi raccomando bevete tanta acqua a presto flavio